Benvenuti carissimi amici di Mellano e Griffa, Service SRL a Orbassano, strada Pio Sasco 40, da dove stiamo trasmettendo queste immagini dalla sede storica Showroom, autovetture nuove, autovetture chilometri zero, autovetture aziendali a vostra disposizione. Avremo modo di recarci un pochino più tardi nella nostra nuova grandissima sede in strada Torino, Angolo, Via Donetto Regaia, tantissime autovetture al primo piano, anche lì autovetture nuove, chilometri zero aziendali, autovetture d'occasione e al pian terreno tutti i nostri servizi a 360 gradi, l'officina assistenziale Fiat, Lancia e Alfa Romeo, il nostro magazzino ricambi fornitissimo, il centro revisioni e collaudi per revisionare e collaudare qualsiasi tipo di marca di autovetture, la nostra carrozzeria e il nostro gommista. Quindi amici non cambiate canale, Mellano e Griffa, Service Fiat, Alfa e Lancia, mese strepitoso, offerte imperdibili, il nostro sito, ci seguite anche sul internet www.melanoagriffa.it e siamo presenti su Autoscout 24, seguiteci! E partiamo con le straordinarie offerte per le autovetture nuove di questo mese, attenzione, prestate molta molta attenzione su tutta la gamma di autovetture Fiat straordinarie promozioni per quanto riguarda la campagna rottamazione, per quanto riguarda i finanziamenti, a partire dalla 500 ad arrivare alla Fremont, qui di fianco a me vedete inquadrata la novità, la 500L Trekking, ma attenzione avremo modo un pochino più tardi di vedere la Living, la Sette Posti a vostra disposizione o perché no con tanto spazio in più, ma ripeto su tutta la gamma esclusiva, offerta, Mellano e Griffa, straordinarie promozioni di campagna rottamazione mai viste prima, con degli sconti incredibili e dei finanziamenti con assicurazioni, incendio e furto comprese nel prezzo, il mese di Fiat Panda 4x4, andiamo verso la brutta stagione, anche qui incredibili offerte sulla Panda 4x4, pensate addirittura a un tasso zero, anche qui con comprese nelle rate assicurazioni furto, ma recandovi qui alla nostra sede o in strada Torino, angolo Vianetto de Gaia, un semplice preventivo, beviamo un aperitivo, non vi costa nulla, sicuramente troviamo la soluzione giusta, tagliata su misura per ognuno di voi, ricordo anche ai nostri amici Fiat Lancia e Alfa Romeo, ai nostri amici dipendenti Fiat e ai loro parenti di primo grado, noi siamo centro diretto di vendita con le stesse identiche promozioni del mese che pratica loro la casa madre, con gli stessi sconti, con le promozioni, attenzione corsia preferenziale per quanto riguarda i finanziamenti, anche qui assicurazioni, incendio e furto comprese nel prezzo, ma recatevi qui con i miei collaboratori saremo trasparenti di consuetudine alla Melano e Griffa Service Fiat Lancia e Alfa Romeo, seguiteci! E come vi ho promesso si parte alla grande con una serie di chilometri zero, imperdibili autovetture, nuovo solo targate qui alla Melano e Griffa, Fiat Lancia e Alfa Service di Orba Sano, in questo momento state vedendo inquadrata una Panda Easy come allestimento, un bellissimo grigio metallizzato, parliamo di una chilometri zero, prestate molta attenzione, pensate a 240 euro al mese, comprese di furto, incendio, eventi sociopolitici, calamità naturali, insomma chi ne ha più ne metta, solo 240 euro al mese, anticipo zero, recatevi qui che sicuramente è l'autovettura che fa al caso vostro. Una Delta allestimento Gold, chilometri zero, pensate a 445 euro al mese, compresi di incendio e furto, anticipo zero, avete capito bene? 445 euro al mese, anticipo zero. Alfa Romeo Giulietta, 1.4 GPL Turbo, pensate a anticipo zero, con rate comprese di assicurazione, incendio e furto, insomma tutti gli eventi a 395 euro al mese, solo 395 euro al mese, avete capito bene? Bellissimo appunto, bicolor, motore Twin Air, pensate a 200 euro al mese, solo 290 euro, anticipo zero, assicurazione, incendio e furto eccetera, compresa nel prezzo. Si prosegue con le straordinarie offerte chilometri zero della Melano e Griffa Service, Fiat Lancia e Alfa, parliamo di una Lancia Y Eco Chic GPL, chilometri zero, anticipo zero, a 292 euro al mese, solo 292 euro al mese con incendio e furto, compreso nel prezzo. Avete visto carissimi amici quante straordinarie offerte per questo mese, esplosive qui alla Melano e Griffa Service, Fiat Lancia e Alfa in strada Pio Sasco, in strada Torino, Angoli e Notte Regaia, ma voi sapete bene che tra l'altro vedete qui inquadrato da mie spalle una 500 d'epoca storica, Melano e Griffa e Storia, siamo presenti sul mercato dal 1959, sempre al servizio del cliente Fiat Lancia e Alfa, parliamo dell'officina, il nostro servizio, il nostro fiore all'occhiello a 360 gradi, quindi tantissimi clienti soddisfatti e tantissimi ancora da soddisfare, ma la nostra officina a vostra disposizione da lunedì mattina al venerdì sera con dei tecnici preparati dalla casa madre e con dell'attrezzatura, con la tecnologia avanzata, bene per questo mese e anche qui per la vostra manutenzione ordinaria e straordinaria per la vostra autovettura, ricambi originali Fiat Lancia e Alfa, noi siamo convenzionati con le più grandi aziende di noleggio, quindi centro assistenza per le vostre autovetture di noleggio, quindi con le più grandi società di noleggio, non resta che recarvi della nostra officina, il nostro accettatore, il signor Stefano Gili, a vostra disposizione, da lunedì mattina a venerdì sera il nostro capo officina, il signor Leni Luigi, ma carissimi amici, abbiamo preparato per questo mese, andiamo verso la brutta stagione, quindi il controllo della vostra autovettura, un check-up non vi costa nulla, il preventivo è gratuito, sicuramente troviamo la soluzione per la vostra manutenzione, ripeto, ordinaria e straordinaria, non costa niente, vi recate dal nostro accettatore, dal nostro capo officina per l'intervento per l'inverno, attenzione siamo anche centro gomme, quindi le gomme termiche adesso tra l'altro sono obbligatorie, recatevi alla Melano e Griffa Service, Fiat Lancia al Forno, ricambi, magazzino ricambi fornitissimo, è il nostro centro revisioni per revisionare e collaudare qualsiasi tipo e marca di autovettura, la nostra carrozzeria, ripeto, Melano e Griffa Service, in strada Torino, angolo di Nontore Gaia, la sede storica è qui in strada Pio Sasco 40, il tempo stringe, vi aspetto veramente in tanti, ciao a tutti e a presto. Grazie. Grazie.